Ed è sicuro? Sono così vicini. Io sono l'unico ad avere la chiave, amico. Dove l'hai presa? Io ho ammazzato uno. Tanto non ti serve. Tutti di qua. E qui dietro. Allora, manteniamo. Io stesso. Io stesso. Certo. Grazie. Eccoci. Benvenuti nel mio ufficio. Da quanto tempo siete chiusi qui? Qualche giorno. Abbiamo un po' di cibo, però. Vieni. Mirtilli. Ne abbiamo trovati un sacco. Ne vuoi un po'? No. Ehi, amico, rilassati. Siamo al sicuro qui? Non siete scappati. Perché? Aspettavamo il momento giusto. E? Vieni. Dai un'occhiata qui. Guarda quei figli di puttana. Tutti i giorni si radunano lì sotto e sorvegliano quel dannato ponte. Ma di notte rimangono in pochi di guardia. Dobbiamo provarci dopo il tramonto. Una volta andati proviamo a passare. Può funzionare. No, funzionerà. Funzionerà di certo. Aspetta, aspetta. Ne ho un altro. Guarda. Sono bravo. Aspetta! Ai! Ferita da un mirtillo, eh? Ero da tanto tempo che Sam non rideva così. Lei non sembra molto preoccupata. Aspetta. Dove stavate andando? Ho sentito che le luci hanno la base verso ovest. Ci uniremo lì. Già. È divertente? È solo che ultimamente sembra che tutti facciano affidamento sulle luci. Già, magari c'è un motivo. Quindi non sai dove siano e lo stai trascinando per tutto il paese per trovarli. Sai che ti dico? Io mi preoccupo di mio fratello e tu della ragazzina. Tranquillo. Anche noi stiamo cercando le luci. Noi siamo qui. C'è una stazione radio militare abbandonata subito fuori città. I sopravvissuti del nostro gruppo si incontreranno qui domani. tu e lei potete venire con noi. Partiamo stanotte. Allora faremo meglio a riposare. Dice che è ora di andare. ci muoveremo in fretta, ok? Quindi tu resti attaccato a me come colla. Come colla. Come colla. Capito. Bene. Bene. Ok. Pronti? Sì. Ok. Bene. Stiamo vicini, ok? Ci hai già provato? Rassicurante. Rilassati, vecchio. Spero che tu conoscas la strada. Rilassati, vecchio. Rilassati, vecchio. Rilassati, vecchio. Rilassati, vecchio. Ok. Ok, cerchiamo di farli fuori senza fare troppo rumore Ehi, ti seguo Bene Ehi, come va? Cerco di restare al caldo Come va là fuori? Abbiamo eliminato qualche infetto Non sono un segno recente Credi siano ancora in città? Sì, sono ancora qui attorno Prendiamolo! A girarlo! Non mi sento incontri! Non mi sento incontri! Ok, cerchiamo! Ah! Razzamando le sei! Chi ha ti troverò? Ma dov'è quello stronzo? Bene, Coutinho. Aggiungi! Ti accetto come un cerizio! Tannazione, ma lo stronzo. Controlliamo la strada. Su, nel corridoio. Dove sei, betta di merda? C'è qualcosa? Un cuore. Cerchiamo ancora. Cerchiamo ancora. Vai verso il posto. Dove sei un pezzo di merda? Vedi niente laggiù! Sei morto, ma... ... ... ... ... ... Guarda! Lo vedo! Bene! Ce l'abbiamo fatta! Harry, dammi una mano! Ok! Pronto! Aspetta, aspetta! Ehi! Sono qua giù! Centro! Davanti, andiamo! Non è ancora finita! Ok, controlla! A posto! Sam, andiamo! Su, ragazzo, vai! Ci sei! Ragazzo! Merda! Forza, forza! È lì! Vai! Vai! Ok, tiriamolo su! Mi dispiace! Andiamo! Cosa? No! Che stronzate! Ehi, ora! Affanculo, Harry! Merda! Restiamo insieme! Oh, cazzo! Oh, cazzo! Oh, cazzo! Dove cazzo siamo da qui? No! 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 che li abbiano trovati. Dividetevi, potrebbero passare di qui. Ti troverò. Non puoi nasconderti per sempre. Sei un uomo morto! Per l'ostra l'area. Oh, merda, Joel, mi hai visto? Non montarti la testa e colpisci la loro. Pezzo di merda. Per l'ostra l'ostra. Per l'ostra 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 dell'ostra e le impostate al nostro. Passiamoci sotto. Corri a mano! Cazzo! Quanti colpi hai ancora? Ci succederanno! Abbiamo forse altra scelta? Saltiamo! No, no, è troppo alto. Non sai nuotare. Ti aiuto a salire e corri di là. Marta! Oddio! Mi sarai a galla! Allì! Non abbiamo tempo! Allì! Andiamo! Harry! Harry! È sveglio! Ehi, tu! Siamo vivi. Ok. Visto? Che ti ho detto, eh? Sta bene. Va tutto bene. Sai, è Sam che vi ha visto. Avete tirato su un bel po' d'acqua quando... Ma che cazzo fai? Ehi! No! Harry! Tutto ok? Mi stai indietro tu! È incazzato, ma non farà niente. E sei proprio sicuro? Basta! Joel! Ci ha lasciati là fuori a morire. No. Era probabile ce la faceste. Ed è stato così. Ma fossi tornato per voi, avrei messo in pericolo lui. Stai indietro! Se è stato il contrario, sareste tornati per noi. Ti ho salvato. Ha salvato anche me. Saremmo annegati. Tranquillo, piccoletto. Tutto ok. E per quanto valga, sono felice che vi abbia visti. La torre radio è dall'altra parte della scogliera. Ok? Il posto è pieno di provviste. Sarete felici di non avermi ucciso. Ehi, cerchiamo in questa zona. Vediamo cosa troviamo. Ok.